E' la dignità dell'Ikea, questo è un picchetto, questo è un picchetto per i venni che ha diritti e dignità e da qua non ce ne andiamo, e avanti con lo sciopero! Sciopero, sciopero! Si, 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 si. Bersano! 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 Non ti guarda, non ti guarda, non ti guarda. Non ti guarda, non ti guarda. Non ti guarda. Non ti guarda. Ti dovete vergognare. Questa è quella che fa l'idea. Vergogna, vergogna. Vergogna, vergogna. Vergogna, vergogna di fare così le persone. Vergogna, lavoratori, che solo possono sopperare per il loro diritto. A sopperare per la giustizia. A sopperare per un'azienda che sfrutta i lavoratori. Un'azienda che tratta l'esercito per gli animali. Vergogna, vergogna. Ti dovete vergognare. Grazie. 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 Noi, 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 noi. Noi, 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 noi.